E' un duro colpo per il molo polisettoriale del porto di Taranto. Gli azionisti di TCT, Taranto Container Terminal, hanno deciso di mettere in liquidazione la società. La decisione è stata presa a Roma al termine di una riunione tra Hutchinson, Evergreen e Maneschi che detengono rispettivamente il 50, 40 e 10% delle quote societarie. Nessuna delle soluzioni che pure il governo aveva messo a disposizione di TCT è stata presa in considerazione dagli azionisti. TCT per 36 lunghi mesi ha temporeggiato utilizzando il porto di Taranto per piazzare altrove le sue quote di mercato, dichiara il parlamentare ionico Ludovico Vico tra quello del Pireo ed altri scali del Mediterraneo, anche in danno di accordi stretti con l'Unione Europea. Una scelta strategica preordinata venuta fuori solo in queste ore. Il molo di Taranto resta vuoto, ma soprattutto, conclude l'onorevole Vico, è urgente affrontare la situazione occupazionale che riguarda i 540 lavoratori. Come è noto infatti per loro, la cassa integrazione è scaduta il 28 maggio scorso ed il destino potrebbe essere quello di passare subito in mobilità con la speranza di trovare una soluzione nei 75 giorni successivi. Intanto, il 17 giugno è già fissato un incontro a Palazzo Chigi.